Il sabato santo è giorno di silenzio, di preghiera, di attesa della risurrezione. In pratica una metafora dei giorni attuali, in cui un po' tutti in questo stato di clausura momentanea siamo chiamati a pregare per la fine della pandemia. In particolare il sabato santo è il giorno liturgico in cui il culto cristiano celebra il Signore Gesù Cristo nel mistero della sua discesa agli inferi. Anche la Chiesa si ferma. In questa giornata non sono previste celebrazioni, eccezione fatta per la veglia solenne che viene celebrata a partire da qualche ora prima della mezzanotte. Anche oggi vi daremo l'opportunità di seguire questo momento. Ci collegheremo in diretta dalla parrocchia Beata Maria Vergine di Fatima alle ore 22 per la veglia pasquale concelebrata dai frati Cappuccini di Sciacca. Il sabato santo è una giornata in cui predominano il silenzio, il raccoglimento, la meditazione per Gesù che giace nel sepolcro prima della gioia della domenica di Pasqua per il culmine di queste festività. Una gioia quella della risurrezione che quest'anno non potrà sfociare nel tanto atteso incontro cittadino, quello che tutte le Pasque ha visto incontrare, prima davanti alla piazza e poi nel quartiere di San Michele, i simulacri di Gesù e di Maria dopo l'annuncio di San Michele Arcangelo al suono gioioso della San Michelara, l'inno intonato dalla banda che contraddistingue questo momento di festa. Una Pasqua, passaggio dalla morte alla risurrezione, che come i precedenti riti della settimana santa, i fedeli vivranno dunque tra le mura domestiche, magari con la tv accesa, sintonizzati su Telemonte Cronio o con lo smartphone in mano per chi sta più lontano per la diretta della Santa Messa prevista alle ore 11. Al prossimo episodio Al prossimo episodio